Ciao, Giselle non risponde perché sta scattando un servizio fotografico. Le lascio il messaggio. Bye. Sono insoddisfatta. La saluto. Appoggialo qui. Grazie. Prego. Se vuoi, ti ospito io. Siamo dei bersali. È arrivato il momento di agire. Io voglio solo andare al sodo. Non mi interessano le chiacchiere. Sei l'amica più estroversa che ho. Mi fai sempre ridere. Salve, signora Lona.